Buongiorno, il caso Craxi, vent'anni dopo la sua morte, non è chiuso, è un caso che non si potrà chiudere con ricordo, la memoria, due parole e via, due caffè insieme, un pranzo, una cena, non può essere così, non può essere così perché molte cose di quelle che sono state dette in questi giorni hanno di nuovo fatto ricordare quello che in politica non si dovrebbe dimenticare mai. Quando si passa dalla politica attiva alla storia e ci si passa per propri meriti o per propri demeriti o perché la storia a un certo punto ti fa sottolineare, ti sottolinea una tua partecipazione e non si può fare a meno di dire abbiamo liquidato, abbiamo liquidato la politica, abbiamo liquidato il partito socialista e già questo è molto difficile, abbiamo liquidato la storia, non è possibile, non è possibile la storia, la memoria, chi non ha memoria non ha storia, chi non ha storia non ha memoria, ma chi non ha memoria è finito. E siccome Craxi è Milano, è l'Italia, è il Presidente del Consiglio dell'Italia ma è anche Milano, non si può liquidare Milano proprio nel momento in cui tutti dicono ah Milano è diventata importantissima per l'Italia, guardate cosa è diventata, non si può cancellare il periodo più importante. Io non sono di Milano, sono venuto ad abitare 25 anni fa a Milano, mi considero milanese come tanti milanesi, da qualche tempo ho cambiato casa ed abito in Brera. Tutti dicono ah Brera, Brera, Milano, l'Accademia. Allora io ricordo 25 anni fa quando venni a Milano e anche qualche anno prima Brera, era un quartiere scadentissimo, diciamo una periferia del centro, diciamo una cosa di case mezze diroccate, non si offendano gli abitanti storici. In questi 25, 28, 30 anni è un altro quartiere, è un'altra vita, è un'altra cosa. Ricordo gli sforzi che furono fatti all'epoca e ho portato un testimone, poi ne parleremo, per trasformare quella zona della città, per fare di via Solferino, dove già c'era il Corriere, una delle strade più eleganti di Milano, a mio avviso sbaglierò, e quel quartiere, un quartiere che oggi ha una sua vitalità. Tutti parlano dei nuovi quartieri, tutti parlano dell'Expo, è giusto, tutti parlano di City Life, è giusto, di Porta Nuova, è giusto, ma pochi ricordano che cosa fu fatto lì. Poi ci sono stati gli anni in cui Milano era una città buia, triste, era ancora una città buia, triste, e ci fu una sindacatura, ci furono delle cose appoggiate da certa politica che dissero, ma sapete che dobbiamo fare la prima cosa, dobbiamo illuminare questa città, era la giunta Albertini. Ecco, Craxi in queste cose qui ha avuto un ruolo fondamentale nell'Italia, tutti ne parlano come Presidente del Consiglio, moltissimi ne parlano a sproposito per i fatti giudiziari, qui abbiamo presentato il libro di Marcello Sorgi che rimette, presunto colpevole, che rimette al suo posto alcune questioni anche e giudiziarie, oggi io voglio parlare di quello che continuerà, che proseguirà. Ho un ospite, secondo me, molto importante qui con me perché è stato il sindaco di Milano ed è stato il sindaco in quegli anni, lui sorride, Paolo Pillitteri, l'ho chiamato non solo perché era stato il sindaco, non solo perché è stato cognato di Bettino Craxi, ma anche perché ora è uscito un suo film, tutti hanno parlato di Amamette, io vi dico che è uscito un suo film La Tesi, presentato al teatro Matteo Parenti e presto sarà presentato a Roma, questa è la copertina del film, se me la inquadrate è un po' grande, il manifesto La Locandina, è uscito in un teatro, è fuori da un circuito grande, è un circuito e questo invece è il manifesto che propone una discussione su Bettino Craxi nella storia della politica milanese. Partecipa a questa discussione, introducono Spiri, Fabio Martini che è autore del libro Controvento, ma poi c'è Beppe Sala, Stefania Craxi, c'è anche Pillitteri, Minzolini e conclude questa discussione Stefano Parisi. Stefano Parisi, io ce l'ho ospite, a Roma. Stefano Parisi tra l'altro è stato city manager di quella giunta di Albertini che illuminò la città e che disse a Porta Nuova bisogna fare qualcosa di diverso dalle varesine. Qui sto parlando ai milanesi, magari i romani non capiscono, allora andiamo su una cosa che capiscono tutti in Italia e diciamo Bettino Craxi, primo presidente del Consiglio milanese nella storia d'Italia. Bene, può essere questa cosa non ricordata? Io prima di dare la parola a voi due voglio lanciare un servizio che ha fatto Tg.com e ha fatto News Mediaset la settimana scorsa su questo tema di una targa da dedicare a Bettino Craxi in città. Vediamolo. In questo ventennale dalla morte di Bettino Craxi è arrivato il momento di rompere il muro del silenzio e l'ambiguità per condividere una stagione di verità sulla vita, sull'opera, l'impegno politico e amministrativo di uno statista che il nostro paese ha avuto. È polemica in Consiglio Comunale a Milano sulle proposte di Forza Italia e Milano Popolare di intitolare una via al leader socialista Bettino Craxi. PD e 5 Stelle sono contrari, il sindaco Sala è favorevole a porre una targa all'esterno del palazzo in cui Craxi abitava, in ricordo del primo presidente del Consiglio milanese. Una mediazione che non soddisfa Forza Italia con Maria Stella Gelmini che reagisce alle parole del pentastellato Corrado. Tutto quello che io dico viene dalle sentenze, da sentenze. Allora io inviterei, consigliera Gelmini, non interrompa il collega. Non riteniamo che sia corretto, targhe, vie, piazze, edifici si dedicano ai modelli, a coloro i quali dobbiamo vedere come modello del nostro operare. Craxi a nostro avviso non lo era. Ma Forza Italia insiste, è giusto riconoscere quanto Craxi e le amministrazioni socialiste hanno fatto per Milano negli anni 60 e 70. Case popolari, asili, servizi sociali. Sala e il PD dovrebbero avere più coraggio e intitolare una strada a Craxi e non cercare piccoli compromessi magari per non scontentare i 5 Stelle. Ma non è vero, non è vero per nulla che si dedicano ai modelli, le strade, i ricordi. Si dedicano ai personaggi che hanno avuto importanza nella storia. Sono poi diventati modelli ma sono stati anche tritati come modelli. Si dedicano alle strade a Giuseppe Mazzini che all'epoca era considerato poco meno, poco più che un terrorista. Però poi dopo è diventato il risorgimento e via dicendo. Questa discussione sul revisionismo dei modelli è stata già fatta a lungo a Roma su quello che riguarda l'architettura del periodo anni 20, anni 30. Io credo che non si possa riproporre così a Milano. Ma parto da voi, da voi due. E cioè darei prima la parola a Stefano Parisi che è promotore e conclude questa manifestazione a cui i pilliteri parteciperà anche la settimana prossima e gli darei la parola proprio su questa vicenda che io ho detto della storia, della memoria e se vogliamo anche del ruolo del sindaco di Milano attuale, Sala, che partecipa ed è un fatto positivo. No Stefano? Sì perché c'è stato in Consiglio Comunale a Milano un brutto dibattito. C'era la discussione appunto di due mozioni sulla ipotesi di intitolare una via a Bettino Craxi e il sindaco Sala, che per tanto tempo aveva detto che è necessario riaprire una discussione, un confronto, non si è presentato. Il PD non ha potuto parlare se non per bocca del suo capogruppo cercando di fare una mediazione appunto come diceva lei, abbastanza così ipocrita e soprattutto non c'è stata la discussione, cioè il fatto che Milano nasconda, si vergogni, rimuova la figura di Craxi è un fatto molto grave e soprattutto il fatto che la sinistra la rimuova è un fatto molto grave. Quindi uscendo da quella riunione abbiamo subito prenotato la sala a Palazzo Marino esattamente nella sala sotto l'ufficio del sindaco perché vogliamo discutere di questo proprio con la sinistra, tanto è vero che Verragori, sindaco di Bergamo e sostenitore diciamo così importante che ha sostenuto la necessità che la sinistra ricordi il ruolo e il peso di Craxi e abbiamo invitato anche Sala che speriamo che venga e ci sono varie forze politiche che parleranno e presentiamo, vengono gli autori Fabio Martini e Andrea Spiri autori di due importanti libri recenti su Craxi. Qual è il tema di fondo? Oltre a quello che lei diceva su Milano e che credo che sia molto importante, quando governavano i socialisti con le giunte di centrosinistra a Milano si parlava di Milano da bere e mi ricordo che questo era uno slogan un po' dispregiativo che veniva dato. Oggi la Milano da bere di oggi è esattamente figlia di quella Milano da bere là, di quella forza che è stata in quegli anni imposta in un governo moderno della città, l'apertura sulla cultura, il ruolo internazionale di Milano e tutto quello che succede oggi a Milano è figlio di quel periodo e di quella cultura, ma soprattutto quello di cui noi vogliamo parlare è quello che è successo a sinistra. Oggi io mi sono rivolto in consiglio comunale ai colleghi del centrosinistra per dirgli voi siete la sinistra senza craxi, quel passaggio importante e riformista che fece il Partito Socialista all'inizio degli anni Ottanta quando parlò di merito e di bisogno, cioè quando oltre a occuparsi dei problemi degli ultimi davano un'opportunità di crescita agli ultimi, proprio con il merito, cioè stare vicino agli ultimi non per assisterli con politiche assistenziali e paternaliste, ma per dargli a loro la possibilità di emergere, rimettere in moto un ascensore sociale. Ecco la sinistra del PD oggi è ancora ferma lì, quando Craxi, presidente del Consiglio, riesce a fare un accordo con Cisle Wille e con la componente socialista della CGL in cui blocca la scala mobile e batte l'inflazione avendo Berlinguer contro. In quel momento fu fatta una grande operazione di risanamento di finanza pubblica e per dare più potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori. Berlinguer aveva torto e Craxi aveva ragione e il PD di Zingaretti è ancora lì che difende Berlinguer e sono passati più di trent'anni. Questa è la questione, la grande questione che non avendo mai fatto il Partito Socialista, il Partito Comunista e poi il PD, questa svolta che invece Craxi fece molti anni fa ha consegnato il Paese alla destra, questa è la questione. Se invece il Partito Socialista e Socialdemocratico fosse diventato dominante nel Paese, oggi noi avremo una democrazia avanzata. Questa è la grande questione che noi vogliamo porre. Perché la sinistra difende le icone al di là del loro valore che pure dentro discute distrugge e demonizza altre icone al di là dei loro demeriti. Hai sentito questo ragazzo dei Cinque Stelle dire le sentenze. Ma in Europa la giustizia europea ha stabilito che le sentenze nei confronti di Craxi non sono state fatte con processi giusti perché non c'era la partecipazione della difesa, una reale possibilità di difesa dell'imputato. Lo scrive Marcello Sorgi in un altro suo libro molto buono che io consiglio insieme ai due che faranno. Ma poi su tutta questa tematica che Parisi ha lanciato io ho Pilliteri che fu a un certo punto anche demonizzato per demonizzare l'icona di Craxi ma fu protagonista di quella stagione della Milano del centro-sinistra, della Milano della cultura. Pilliteri non faceva tanto, non era un uomo che veniva dalla politica, il contrario, veniva dalla cultura alla politica. Infatti adesso l'ho presentato, adesso è autore Pilliteri di questo film che si chiama La Tesi, Bettino Craxi, la sua storia, che è andato a Franco Parenti il 10 febbraio, ora speriamo anche a Roma ed è la passione che hai sempre avuto, regista, scrittore, uomo di cultura. Allora le cose che diceva Parisi sono giuste? Sì, l'approccio verso Craxi, l'ho sentito anche dal giovane dei Cinque Stelle, ha un grosso difetto alla base, non ne sanno la storia, ma la cosa più grave, non sanno la nostra, la storia degli italiani, cioè c'è un approccio superficiale, liquidatorio, che viene da lontano e che non serve a niente. Ecco perché io condivido molte cose dette dall'amico Parisi, condivido tutto e volevo soltanto accennare al film che noi abbiamo fatto che è stato dato in anteprima, che prima o poi finirà anche lui nelle sale. Noi partiamo da una cosa lontanissima, questo per dare l'idea di Craxi. Craxi negli anni Sessanta, che diventa consiglieri e assessori di Milano, insieme a me e a Carlo Tognoli, pensate un po', io facevo il cinema, Tognoli mi dava una mano, facemmo un documentario sulla immigrazione milanese, che si chiamava Milano Cara e lui ci dava le indicazioni. Bene, scoprimmo che nella giunta di allora, oltre a esserci come assessore Craxi, c'era l'assessore alla immigrazione, c'era un sindaco socialdemocratico, l'assessore Hudson, di cui divenne molto amico, aveva come compito l'assessorato alla immigrazione. In che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che noi andavamo alla stazione centrale con la cinepresa e facevamo vedere gli immigrati con la valiglia in spalla, uscivano, guardavano i grattacieli, non sapevano cosa fare, c'era fuori qualcuno che li aiutava. Questo qualcuno era il comune di Milano e Bettino ci diceva, la devi smettere di prendere sempre questa cosa della stazione centrale, che arrivano poveretti e mettono su le loro cose in spalla, dovete andare a vedere il Grattosoglio, il Gallaratese, l'Ordica, il Sant'Ambrogio. Voi prendevate la stazione centrale perché avevate visto Visconti, voi avevate visto Rocco e quindi dicevate questo è il posto dove arriva uno dal sud e vede Milano. La verità è quello, quella architettura industriale della stazione centrale era bellissima e nello senso tempo drammaticissima per uno che veniva dopo 20 ore di treno dalla Basilicata. Ma lui diceva questo perché la sua era un riformisma non assistenzialistico fatto dal fare, bisogna fare, infatti sorsero degli enormi cantieri che poi hanno abitato loro, ci fu il lavoro eccetera, d'onde nacque anche il miracolo economico? Perché non era una cosa inventata, ci fu la partecipazione di centinaia di migliaia che venivano a Milano e che trovavano una soluzione ai loro problemi, questo è il punto. Questa zona da cui trasmettiamo noi e quindi stiamo parlando da Cologno, però qui siamo nella periferia di Sesto e questo studio forse è proprio accatastato su Sesto e a fianco c'è Cinisello che sono quartieri importantissimi a Milano di riferimento, vengono da quegli anni là, Cinisello era probabilmente a maggioranza di immigrazione pugliese e erano i grandi elettori di un altro socialista importante per Milano che fu Agnasi, che tutti si ricordano il comandante iso partigiano, che aveva in queste zone e Craxi era stato consigliere socialista a Sesto, quindi questa zona, la zona della periferia est, pure altre, ma fu certamente una zona con ci sono abitanti, milioni di abitanti, come tutti sanno Milano ha pochi abitanti, ma attorno a un'interlande enorme. Nella zona dell'Ortica. La zona dell'Ortica che è importantissima, che pure sta qui, sta sulla tangenziale, vicinissima. Cologno. Cioè sono zone fatte lì, in quegli anni, zone per dare le case a chi veniva immigrato e per dare lavoro, perché si lavorava nei cantieri per costruire questa città. Allora, questo è il Craxi da cui partite voi, il Craxi socialista, il Craxi riformista e poi c'è la storia politica. Però io torno alla domanda iniziale, quanto è stato importante per Milano e come fa Milano a negare che ha avuto Craxi un'importanza in questa sua storia, in periferia e al centro, nelle classi lavoratrici e anche nella classe politica. Qui fu inventata la cosa che il Partito Socialista faceva governi di centro-sinistra evoluti, ma anche governi con la sinistra ha fatto, col Partito Comunista ha governato qui e ci sono stati molti militanti a quel tempo del Partito Comunista che dopo la rottura tra comunisti e socialisti sono rimasti riformisti. Qua si sono creati dei riformisti. Sì, Milano diventa con Bettino un centro di attrazione politica, perché lì c'è il riformismo non solo craxiano, quello che viene da lontano, ma anche quello socialdemocratico. Io vengo dal Partito Socialdemocratico. Quindi noi cerchiamo di mettere a fuoco una caratteristica di fondo di Bettino Craxi, la milanesità, la dico sillabando perché non è campanile, non è il campanilismo, è un'altra cosa, è la cosa per la quale Bettino con le sue convinzioni riformista trasferì poi nella sua capacità governativa questa sua dimensione, questa sua capacità del fare le cose. Dalla demagogia, era assolutamente incapace di retorica, cosa che ha trasmesso a molti di noi una squadra che lui allevò e che divenne poi amministratori, deputati eccetera, ma ritorno anche sul riformismo milanese. L'anticomunismo di Craxi, che è una cosa storica, ma attenzione, l'anticomunismo di Bettino Craxi era a livello ideologico, non politico, tant'è vero che molte giunte a Milano, giunte comunali, furono volute da Bettino con i comunisti, questo è il fatto curioso, ma non neanche tanto, perché lui capiva che le grandi città ci sono delle fasi nelle quali il coinvolgimento di certe forze popolari è assolutamente necessario. I comunisti non sono mai stati grati a questo, no. Io posso fare una confessione, io ho avuto un attimo di quasi lite con Bettino Craxi, quando lui decise, diede il sì all'ingresso del post comunista, del PD, dell'internazionale socialista. Io rimasi, io in fondo ero rimasto saragatiano, questo un po', ma si è burcraziano, quindi sommavo in me un atteggiamento sostanzialmente negativo. E glielo dissi, Bettino, ma chi te lo fa fare, ma insomma, ma per favore, ma non se lo meritano, ma che maturino, quando le nespole saranno maturate, saranno raccolte. Io non ricordo una parola di gratitudine fin da allora, figurati adesso. E bisogna dire, questo esempio che ha fatto Pelletteri, che per Craxi l'internazionale socialista non era pro forma, come poi è stata in realtà per altri partiti della sinistra europea, anche i comunisti, ci teneva tantissimo. Pensava, non solo nei termini dell'internazionale socialista, quindi anche più che europei, pensava che quello sarebbe stato un motore per poter fare una sinistra unita, ma riformista, in Italia. Quello è stato il grande scontro. Una sinistra deve essere riformista o deve essere comunista. È stato il grande sconto che Parisi ricordava su Berlinguer. Però da questo all'ingratitudine ce ne corre. Voglio ridare l'ultima parola a Parisi, perché questo appuntamento, proprio perché ci partecipa anche Gori, perché ci partecipa, e speriamo Sala, e speriamo Sala, io lo spero davvero, perché è importante che il sindaco di Milano dica, va bene, prendo atto. Il sindaco di Milano ha fatto una cosa importante il 12 dicembre, l'avrete seguito pure voi. Ha chiesto scusa, naturalmente, per quegli anni del 12 dicembre, sia naturalmente calabresi, non si discute neanche, vittima poi di omicidio, ma anche ha chiesto scusa ai familiari dell'anarchico Pinelli per come è stata trattata la sua memoria. Noi le abbiamo date più volte quelle parole, perché è stata la prima volta che è stato pronunciato in un appuntamento istituzionale una cosa che dava le scuse a Pinelli. Quindi è un sindaco che ha una visione storica di ricomposizione della città, se no non avrebbe neanche detto quelle cose. Io spero che venga. Stefano, dacci una conclusione su questo appuntamento. Sì, beh, io spero anch'io che venga. Il tema vero è questo qui, cioè è evidente che Craxi oggi divide ancora, dopo vent'anni, ma è anche importante che chi sa la verità su quello che è successo, cioè che in Tangentopoli è stata una montatura costruita per demolire il sistema dei partiti, che ha portato a questo livello di incompetenza e di, non so, mi si aprono le braccia e basta, della qualità della politica di oggi e del fatto che oggi abbiamo demolito e stiamo demolendo il sistema democratico e nasce da lì, perché la prima vittima fu Bettino Craxi proprio perché era un riformista, proprio perché era uno che voleva far diventare grande questo paese e aveva su questo molti amici. Il fatto che questo nodo non sia ancora sciolto e che ci sia, appunto, una personalità come Beppe Sala, che mi sembra di capire che ha anche ambizioni, diciamo così, oltre la città di Milano e che a questo non si presti a un confronto, io non dico che deve venire a dire le cose che dico io, ma almeno si presti a un confronto. Ecco, credo che questo sia un danno per la città, cioè Milano è un'altra cosa, Milano non è rappresentata da quel Consiglio Comunale pavido e ideologizzato che ancora sta dietro alle vicende, quando persino Borrelli ha chiesto scusa per le cose che sono successe. Allora, quello che dico è che un centro-sinistra che sta ancora dietro ai grillini, che hanno detto falsità ovviamente totali sulla storia giudiziaria di Craxi, inventandosi cose che non sono mai successe, bene, io penso che questo si sa che questo sindaco e quel Consiglio Comunale non sono all'altezza della storia di Milano. Milano è una grande città che ha elaborato la propria storia, che ha conosciuto quello che è successo, che non si è persa e non si perde dietro a quelle piccolezze che sono state il popolo delle monetine. Ecco, io penso che questo sia il vero tema e che se ne dica Sala è davanti a un bivio. O fa il sindaco di Milano e quindi prende sulle sue spalle una storia, oppure fa il sindaco delle monetine, va dietro ai 5 stelle, a quello che sono e ancora una volta la sinistra è liquidata e sarà per sempre marginale, poi potrà pure vincere le elezioni nel Comune di Milano, ma è marginale nella società, non capisce cosa in questo Paese sta succedendo. Allora l'appuntamento è martedì 25 al gruppo consigliare Sala Alessi, a Palazzo Marino, al Comune, al gruppo consigliare il gruppo di Stefano Parisi, credo che sia interessante, ci sono due autori di due libri, Diari di Amamette, L'ultimo Craxi, Spiri e Martini, Controvento, la vera storia. Io te ne ho aggiunto un terzo interessante per me, che è quello che ha fatto Sorgi e penso che sia, l'abbiamo presentato qua perché lo ritengo anche coraggioso, che si chiama Presunto colpevole e poi c'è questa grande storia. Storia di Milano che voi racconterete benissimo, te, pilliteri e quelli che siete lì, racconterete anche a Sala, non è che Sala non la conosca, però quella che avete da raccontare voi non so se la conosce o comunque gli sarà utile. Ci vedremo dopo questo dibattito e ne parleremo ancora perché questa storia non finisce, la storia di Craxi non finisce, finiremo prima noi, ma non la storia di Craxi. Buona giornata da Fatti e Misfatti e ora poi vediamo la linea dopo lo sport a TG.com per gli approfondimenti della giornata. Grazie, pilliteri. Grazie.